... Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Pizzo, in provincia di Vibbo, in Calabria, per la costituzione di un'associazione radicale, appunto qui in Calabria, intitolata la persona di Eleonora Cretella. Qui in mia compagnia abbiamo Francesco Pileggi, che oggi ha deciso di iscriversi a questa associazione e di partecipare attivamente, essendo il coordinatore, adesso non so bene quale sarà il nome che darà l'associazione, ma, punto di riferimento, mi dicono, in Calabria alla Mezzia, o comunque nel Catanzarese, nell'area Lametina. Quali sono le battaglie importanti per quanto riguarda, non so, la legalizzazione, l'antiproibisionismo qui in Calabria? Cominciare sicuramente a promuovere un consumo responsabile della sostanza, sempre chiaramente rimanendo all'interno dei limiti di legge, promuovendo magari delle iniziative di dialogo e di ascolto, per evitare che queste sostanze vengano demonizzate, e che si possano creare situazioni drammatiche. Io penso soprattutto alla provincia, dove a volte delle persone vengono letteralmente rovinate per essersi trovati in tasca 6-7 grammi d'erba. Queste sono situazioni che non dovrebbero ripetersi. Dobbiamo andare invece nella direzione di una cultura della responsabilità e della legalità, anche nel consumo di sostanze del genere. Un'altra domanda. Pensi che sul territorio ci siano ragazzi che magari non conoscono le battaglie radicali e soprattutto vogliono interessarsi, ma abbiano bisogno di vedere delle iniziative come quella odierna e vedere magari anche un ragazzo come te che spiega loro la partecipazione alla politica, per non lasciarla in mano a chi forse non fa proprio gli interessi della politica, no, anzi non fa proprio gli interessi delle persone, ma fa gli interessi propri. Ma sicuramente immagino che di iniziative sul territorio ce ne sono tante. Penso che l'iniziativa radicale debba svolgersi innanzitutto fortemente sulla rete. Dobbiamo tornare a essere forti in rete, dobbiamo tornare a essere forti come propaganda telematica, perché il nuovo mezzo di comunicazione è quello. Ci sono altri movimenti che hanno promosso altri messaggi, diciamo di diversa qualità da quello radicale in rete. Credo che anche i radicali possano utilizzare questo metodo, anche considerando la diversa bontà delle nostre proposte. E poi è stato anche detto qui, è emersa la questione della varietà, dell'inclusione nel mondo radicale, di molti tipi di pensieri, tutti i tipi di pensieri. Non c'è l'unico estremismo è quello di includere chiunque, di dare parola a chiunque nella speranza di un dialogo, che ci possa essere con le istituzioni, che ci possa essere anche con altre figure politiche, ma soprattutto su un territorio molto diversificato, che è quello calabrese. Io penso che persone radicali possono dare quel incipit in più rispetto magari a un attivismo che alle volte è semplicemente un portabandiera, ma non porta nulla di fattivo. Io credo che l'unico estremismo positivo sia quello della volontà e della costruzione, quello della progettualità. In questo senso penso che la tradizione radicale possa darci molto. E pensiamo di poterne costruire anche una nuova. Le energie ci sono, la voglia c'è, sicuramente i radicali devono tornare a essere presenti nelle associazioni, nei comuni e sicuramente anche nei partiti. Io personalmente sono anche iscritto al Partito Democratico. Credo che la presenza radicale non possa fare altro che arricchire tutte queste esperienze. Perfetto, io ringrazio Francesco Pileggi per il contributo che ci ha dato. Immagino che abbia una pagina Facebook. Sì, ho un profilo Facebook, Francesco Pileggi, contenuti di un certo livello. Quindi se ti vogliono cercare o comunque magari supportare, perché comunque io penso che questa associazione farà strada, avrà bisogno sicuramente di persone che ti contatteranno e quale mezzo come social network Facebook per poter creare ancora più speranza e dare una voce che magari altri non avrebbero. Grazie ancora Francesco, Libere TV, Riccardo Cristiano, Pizzo. Grazie. 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 Grazie.